Questo è il mio primo incontro ufficiale pubblico da quando sono stato presso servizio come presidente dell'ICAO a Montreal, perché da quel momento, al di là di alcuni incontri che si sono tenuti nel mio ufficio a Montreal, poi scoppiato il Covid-19, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Cina, Africa, tutto cancellato. Questo è il mio primo incontro ufficiale. Un ringraziamento particolare, oltre all'Enac, al Ministero dei Trasporti e alla Ministra in particolare, per il supporto alla mia elezione. Non si è eletti se si ha il candidato, si è eletti se c'è il sistema dietro. Il lavoro fatto dal Ministero degli Esti, il Ministero dei Trasporti e la Ministra in particolare, con quel messaggio, video messaggio, inviato all'ultimo momento, il giorno prima dell'elezione, è stato un elemento, come dire, la ciliegina sul processo di coordinamento a livello nazionale che mi ha portato all'elezione. L'elezione che è cominciata, che fosse un difficile incarico, lo sapevo, che dovesse cominciare una settimana dopo con l'abbattimento di un aeroplano ucraino nel cielo dell'Iran, e che non è un incidente. L'abbattimento di un aeroplano è una cosa importante da buddista politico, che ha prodotto, giusto per darvi un esempio in particolare, perché l'ICAO è in Canada con 55 passeggeri morti in quegli incidenti canadesi, due ministri, il Ministro degli Esti e il Ministro dei Trasporti e contemporaneamente a venire nel mio ufficio richiedendomi interventi, che bene o male si stanno sviluppando la scorsa settimana finalmente c'è stata la decodifica dei registratori di voglia a Parigi. E poi il Covid-19, che sappiamo benissimo quello che sta producendo e sta comportando. Due limitati dati e poi veramente vorrò essere breve, perché solo che la Ministra premura, ma noi siamo passati da un 2019, dove c'erano 4 miliardi e 600 milioni di passeggeri, con un ratio di crescita del 5%, con prospettive più o meno simili, con un trasporto aereo che sostiene 65 milioni di posti di lavoro tra diretti e indiretti indotti, che contribuisce con 2,7 mila miliardi di dollari al GDP globale, che trasporta il 60% del turismo mondiale, impattato dal Covid-19. Non è un settore che viene impattato, è un sistema economico che viene impattato. E questo sta producendo ora dei dati disastrosi. Le ultime nostre previsioni indicano che nel 2020 ci sarà una perdita, chiamiamola così, di passeggeri dell'ordine del 50%, è già ottimista questo dato, una perdita di traffico nel primo trimestre del 2021 dell'ordine del 30%, ma questi sono dati assolutamente preliminari. Nel 2020 ci sarà anche una perdita di revenues per le compagnie aeree di circa 400 miliardi di dollari. La situazione è di una drammaticità unica che impatta il mondo in maniera non omogenea. Cioè l'Europa è più impattata che non in Nord America, per la conseguenza anche delle misure che vengono adottate in ambito sanitario ovviamente, ma in misura maggiore di qualunque altra regione, in misura simile a quella dell'est dell'Asia. Quindi un impatto grave su cui lì causa impegnato dal primo momento. Ecco, quando noi siamo entrati in regime Covid, chiamiamo così, e quindi il Consiglio, io non voglio raccontare i dettagli della mia Presidenza, ma sotto la mia Presidenza sono state tante prime volte. La prima volta in cui il Consiglio si è riunito in virtual meeting, in videoconferenza. Vi posso assicurare che non è una cosa facile perché c'è l'interprete di sei lingue, e ci sono sei lingue e ci sono posizioni anche politiche di multilinguismo, che non di alcuni paesi, che non consentono l'accettazione dell'assenza di traduzione. Poi l'abbiamo introdotta la traduzione, però siamo partiti così. La prima volta del voto per modifiche degli standard di Gao via virtual meeting. La prima volta in cui si avrà una disputa tra Stati, il Qatar con gli altri paesi arabi, di cui probabilmente avete notizia, che si affronterà ora ad ottobre. Quindi tutta una serie di prime volte che hanno contribuito alla sfida che ho dovuto affrontare. Dicevo che comunque la prima sfida è stata quella di produrre delle linee guida per il recupero del trasporto aereo. Sono linee guida che in Italia e in genere in Europa erano già più o meno implementate, ma poi sono state anche armonizzate. Ma va sottolineato che quando si parla di trasporto aereo internazionale bisogna avere le stesse regole ovunque. Quindi le linee guida che sono state adottate dall'ICAO nel mese di giugno sono oggi adottate e implementate in gran parte del mondo. Il problema è che il trasporto aereo sta ripartendo, ma non sta raggiungendo gli aspetti sperati, gli obiettivi sperati, prevalentemente per la persistenza di altre misure, che non sono misure aeronautiche, sono le misure tipicamente di quarantena che non facilitano, non agevano il trasporto aereo. Una delle questioni che stiamo guardando con una certa attenzione è l'introduzione o l'accettazione o l'inclusione dei test serologici all'interno delle linee guida per il supporto del trasporto aereo con l'obiettivo ovviamente che con un meccanismo di riconoscimento di questa natura gli stati considerino la rilassare o l'eliminare delle misure di quarantena attualmente esistenti. Chiaramente tutto questo non si fa in isolamento, si fa con l'Organizzazione Mondiale della Sanità con la quale abbiamo ottimi rapporti. Questo è il quadro e queste sono le informazioni che volevo passare, ma chiudo semplicemente con quanto detto dal Presidente nella sua chiosa che riguarda la trasformazione in ente economico. La stragrande maggioranza degli enti dell'aviazione civile al mondo sono caratterizzati da una profonda autonomia come quella italiana corrispondente all'ente pubblico economico. Quindi non posso che indorsarlo da un punto di vista istituzionale, ma il Presidente mi consentirà e l'Avvocato Di Palma me lo confermerà anche a titolo personale, perché quella normetta che fu introdotta nel decreto legislativo 250, quella che prevedeva la trasformazione in ente pubblico economico, venne fuori proprio da un esercizio che facevamo quando fu adottato il decreto e quando a quel tempo l'esperienza che portavo io a suo tempo dal registro aeronautico, che già lo era ente pubblico non economico, ma si confrontava con le difficoltà e per quello fu messa quella norma. Quindi mi auguro che venga implementata ancorché esistente dal 1997, quindi un pochino datata. Vi ringrazio per l'attenzione e auguro un 2020 all'ENAC profigo come è stato il 2019, nonostante ovviamente le difficoltà del momento. Grazie molto per la vostra attenzione. Grazie a tutti.